Mi auguro che questa firma oggi possa essere un buon inizio di un proficuo lavoro per il futuro tra Italia e Cina. Semolino e farina bianca. L'acqua è colorata verde perché ho fatto bollire un pochino di basilico dentro. E' appena calda, appena unire. Mischio un pochino. Do you speak English? Do you speak English? I am preparing the pasta a mano, classic pasta a mano, and pasta italiana, classic pasta a mano. I use the flour, zero zero flour and semolino, not more raffinato. With oat water, with basil. I mix. Now. Oregano. It's possible to add basil on parsley. In the water, I mix extra virgin olive oil. I mix. Now I mix. I'm talking. No, I'm talking English. Come, speak English. Sono di salatini, una pasta povera, perché senza uva Inoltre, in Italia, si fanno due tipi di farina La bianca zero zero e la semolina In acqua calda con basilico In acqua calda, non bollente, perché è meglio per sciogliere il sale E un cucchiaio di olio E' possibile aggiungere del prezzemolo o del basilico tritato? E' possibile aggiungere del prezzemolo E' possibile aggiungere del prezzemolo E' possibile aggiungere del prezzemolo, aggiungere del prezzemolo E' possibile 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 aggiungere del prezzemolo Senzuli E' possibile aggiungere del prezzemolo ... ... ... ... ... ... Il tutto ciò che c'è il mento, non si può fare il mento, non si può fare il mento, non si può fare il mento. ... ... ... E' così, questa è la consistenza, più o meno come un dito, però quando abbiamo aspettato 20 minuti è proprio asciutta.